E' stato trovato senza vita nel Bosco di Gabbara il giovane sancataldese di 34 anni del quale si erano perse le tracce fin da ieri mattina. A lanciare l'allarma erano stati familiari nel pomeriggio di giovedì, preoccupati nel non averlo visto rincasare dopo parecchie ore. Una volta chiamato il 112 sono stati i carabinieri a iniziare le ricerche, setacciando le vie di San Cataldo ed intorni, fino alla tragica scoperta delle scorse ore. Numerosi messaggi di cordoglio sui social network, sulle bacheche di alcuni gruppi di cittadini sancataldesi e anche sul profilo Facebook del 34enne. Adesso saranno gli accertamenti dei carabinieri a ricostruire le ultime ore dello sfortunato giovane e a stabilire la causa precisa del decesso.